Giuseppe Colombani, il presidente della Camera d'Agricoltura di Gismonte, era convogato al commissariato di Bastia per la distruzione del scagno del direttore di ADDTM. Giuseppe Colombani rivendica questo atto e lo spiega dall'altosa necessità di trovare la soluzione a un problema economico, ma soprattutto sociale, importantissimo. L'adio è già fatta, ma voglio ritornare qui un mio sostegno al presidente della Camera d'Agricoltura di Gursi Gasobrana e agli agricoltori alla Dispire.